Siamo qui per presentare Digital Valley. La regione Abruzzo ha accolto molto bene questa iniziativa di un polo digitale qui in Abruzzo. I fondatori sono tutte aziende informatiche, ovviamente che lavorano con grandi multinazionali, ma oggi contiamo più di 500 talenti esperti in tecnologie innovative e hanno sedi come noi in India, in America, in Europa e in Cina. Quindi ci siamo messi insieme per poter sviluppare competenze digitali in Abruzzo e creare start-up innovative e competitive in Abruzzo, che sarebbe un grande valore aggiunto per tutta la regione. Sicuramente Pescara, come ho sempre spiegato io, è un'ottima città per attrarre talenti. Siamo riusciti negli ultimi mesi, con tutte le aziende che stanno costituendo questo polo, ad attrarre talenti da Londra, Beningham e altre parti dell'Europa. Pescara è una città molto vivibile, piace molto ai ragazzi, soprattutto agli esperti di tecnologia, quelli che oggi chiamiamo i nomadi digitali. Riusciamo con la pista ciclabile, con i treni, con tutto quello che ci offre Pescara, mare e montagna ad attrarre questi grandi talenti. E riusciamo oggi a lavorare su tecnologie molto innovative, machine learning, intelligenza artificiale, blockchain ed altro. E questo ci darà un grande valore aggiunto. Partiamo dall'università, che ovviamente fa parte dei fondatori, quindi cominciamo con la formazione di studenti, attrarre talenti e poi creare start-up. E finiremo con creare un Tech Campus, quindi un campus tecnologico, dove sarà il luogo di contaminazione delle idee innovative.